Sì, è un'infrastruttura fondamentale per la frazione di Pian Travini e che fra l'altro si colloca in uno degli scorci paesaggistici più belli del nostro territorio. È un intervento che avevamo già annunciato perché avevamo ottenuto un finanziamento di 275 mila euro. Purtroppo la revisione dei prezzi dettata dagli aumenti che ci sono stati per la crisi internazionale che noi tutti conosciamo ci ha richiesto di individuare nuove risorse per arrivare alla cifra complessiva necessaria alla realizzazione dell'intervento. Questo ha ritardato un po' i tempi però devo dire che la nostra amministrazione ha messo un ulteriore impegno proprio per garantire che i lavori venissero fatti. Alla fine l'ammontare complessivo dell'opera è di circa 500 mila euro quindi un impegno importante e molto significativo ma che va a dare una risposta altrettanto necessaria perché il ponte di Piantravigne necessita di una manutenzione straordinaria e quindi assolutamente l'esigenza doveva trovare una risposta nel nostro operato e l'ha trovata.